buongiorno ragazze buongiorno a tutte e a tutti nuovo video blog oggi finalmente riesco a fare un altro video blog e innanzitutto si lo so mi vedete sempre in pigiama ma una parte sono vestita anche se ho ancora le pantofole ma oggi voglio non so se uscirò o meno ma dovrei uscire e vorrei anche sapere che ore sono sono le 11 e 30 ok ho anche preso già l'integratore quindi vabbè le semplici io mi sa come le devo fare perché non posso stare così di certo ma da una cosa all'altra non so se è meglio che no meglio che mi metto un po di qualcosa addosso sulle sopracciglia perché è impossibile stare così allora io mi sa che vado a vestirmi nel frattempo o prima mi faccio le sopracciglia ma non ho idea di dove appoggiarvi vabbè 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 no mi tocca per forza di stavo guardando se in bagno c'era una piglia ma una piglia non vi è e quindi mi devo per forza armare di pazienza e guardare dove ho messo le mie cose tra l'altro dovrei aggiustare un comò perché non so se è aggiustabile questo comò qui questo vedete come tutto sì ho tolto tutto perché è da aggiustare ma io lo vedo inaggiustabile non so se dice così sì che è difficile da aggiustare comunque vabbè aspettate un secondo allora proviamo a fare sopracciglia vi ho messo un po in bilico dentro un porta beauty per il bagno quelli quelli adatti al bagno e adesso voglio fare sopracciglia non so neanche se ci vedo qualcosa ma mi sa che devo vabbè mi sa che devo staccare proprio un attimo dunque sopracciglia fatte come potete ben vedere alla buona anche lì siccome si può dire e niente adesso allora me le pettino un po perché ne vedo un po curioso un po strane ok le pettinate così come si poteva meglio fare ora vado a vestire ci vediamo dopo ok le pettinate così come si stanno facendo di cosa e evidentemente se lo vedo un po strati ma va bene ok le pettinate così come si stanno facendo di cosa succedere Sì, 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 sì. Allora, sto facendo un po' per andare a cuvientire, quindi a prendere, e vedi, la giornata non è innessa, nella nuova Latina o per andare a cuvientire, non è una nuova, se viene a dare un po' per andare a battere. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Vabbè al tabacchino puoi andare Puoi andare al tabacchino o no? Ah va bene, dai Niente, si credeva che stava andato nel letto di ieri Miao c'è davo la fine Dei trampolizzata perché Non viede a questa roba perché non stava parlando anche un zui Noi, non veda Lei fa poco più come usci per la mia Non veda l'ho, ma detto leke che fa Eh, io veda il calcio, schaos perché non bravo Non veda bravo, non si è sì Ogni tanto io non smette di fare video proprio di registrare, quindi schiena diventita automaticamente. E quindi, in quella santa volta, è una volta assoluta, perché voglio fare vittima un po' vedetta. Poi, siamo in Pagano. Ah, ma tanto io da voi essere che vorrei vedere, non aver guardato più vera, mentre vorrei via, dopo avvertire. E qua non ci sono un po' di qua. E poi ci sono, non ci sono un po' di qua. E poi ci sono due a cui si chiuderebbe, appunto, dove abbiamo appetito. E poi, adesso, dopo un po' di qua, poi abbiamo pronto. Adesso vedo un pezzo di chiesa Ora l'armino Qua terra Qua terra è una bella Scivolata Vabbè, comunque non l'ho Sono un po' ancora inizi Alcune inizi sono fiusi Ma vabbè E' nulla E' una piccola linea Vedete Un po' più inizi Ma per quelli che mi sono Una continetta, vero, in Italia Non credo che lo sappiano Ma io lo dico lo stesso E' nulla Ma che bel sole che sta scendendo Non so se si piacciono Sì, stanno scendendo Un bel sole Qui c'è tutti i miei ragazzi Di roba da mangiare Che alcuni neanche Aprono Oppure aprono una volta Di papa Ma vabbè E niente Qui invece c'è roba di artigianato E basta Roba di sabato Questa roba così Questa roba così Qui non ho come privata Insomma qua è tutta roba lì Non vedete Questa stessa Cacchettissima Sì, vabbè Stavo girando tutta la via nazionale Sì Il mio paese Vabbè Io non vedo il posto per vedere tutto Perché certe cose sono private Nel mio paese Però Ci stiamo a far vedere Alcune cose Che Mi potrebbero interessare Tipo Cambi ristoranti I negozi Da nivosti ce n'è pochi Però Sono belli Dai E qui se voglio portare Non sia questo Un po' di roba Questa roba Questa roba Vabbè Contarsi Vabbè Ce l'ho detto I cristalli Ciao 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 No Braccio Se ci riesco Senza No Scusate Questo non mi riesce No Perché Niente Le mani Mi prendono La telefona Non mi piace Vai Ponte Comenta Unica Comenta Questa Questa cosa Non è Non è Non si vede Bene Ma perché Ho Intentato A impostare Di più Tra Di Certi Distanzi Ok Sì Vedi Stile Vero Ha Menosato Il suo tempo Comune Che Il suo Dio Se di Piazza E niente, io qui ho scoperto adesso, perché non ho idea di farvi, e niente, alla fine ho scusato un po' il piatone, però ho trovato un po' contenitore il senso europeo, se sta messe a questobbe, che ho lasciato un po' il riso di contribuire a un punto de vista importante non posso farlo a metterle bufie nel centro del brazzo e forse quando ha bufie... no non me la sento le campane come salite le campane? si mette in mezzo non è il nostro video proprio se non si suona le campane per le ragazzine già e niente e questo è pronto ah insomma lei sono mezzogiorno e sono che bellezza per l'onda che ci sia ancora la colombiglia intanto guarda se deve terminare no non c'è gente qui no non c'è gente non c'è gente ma non c'è gente perchè c'era gente dove sto parco perchè già non vogliono essere immortati non vogliono essere ripresi quindi come stesso dire voglio rispettare la privacy di chi non si vuole ripresa o ripreso non c'è gente che è una pernata allora come vedo? allora vieni ciao mi prenderò una pernata ma io non mi spatto altamente non voglio dire parolacce ma c'è chi dice bene altro e io voglio abitare anche questo allora di fronte a me c'è la biblioteca lì 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 c'è la posta si fa per la posta o anche a fare altre cose tipo quadri c'è roba di quadri allora adesso è troppo c'è la posta e l'entrò troppo così di alla svelta di sfuggita perchè non vorrei che poi mi dicono cose cioè hanno da fare studio qui c'è un negozio di lì l'avete visto? che non è ultimo così è allora che devo fare qui ho attraversato dove ho attraverso? ho aspettato un secondo che qui devo chiudere un attimo e niente adesso ho attraversato sono in un'altra strada ma qui si può farci duro e niente allora qual è questa cosa? che faccio? non è ritorna a casa non c'è una mazza perchè come posso dire questo periodo storico c'è ben poco da fare spettacoli quindi io adesso non è per una cosa ma la verità ragazzi purtroppo qui nella mia zona è vero qui nel mio paese non fanno spettacoli almeno non penso perchè con questo covid come si può chiamare perchè così è la verità non posso anzi anzi non fanno spettacoli almeno credo io non sto dicendo pastoneria perchè è la verità anzi poche cosa non ho fatta ma non so neanche di cosa si tratta e non sto qui a dire cosa perchè se non so tutto chi tratta perchè il suo non parlare avventura e quindi nulla alla fine basta io tra poco tre sol dico solitarvi perchè purtroppo troppo questo videoblog io ti secondo e niente sono stata chiamata ieri adesso io mi ne volo a casa perchè non ho tanta voglia di girare intorno per il mio paese quanto c'è poco che non lascia un freddo poi eh perchè io ho sempre un po' di freddo tra l'altro vi ho detto che sono stata un po' raffreddaticcia io ho detto tante cose tante novità di me non so se è andato di là o di qua direte un po' di là o di qua io mi so che vado di qui però mi tocca attraversare nell'altra strada dopo dopo si stoppa la nicole inglese vabbè ovvio si sono sordi ovvio mi viene automaticamente dire non ho però la sarda cioè da cui vuol dire dopo comunque dettagli niente adesso sapete cosa devo fare tornare a casa prendere il computer e montare e montare sto video però prima voglio fare un'altra cosa vorrei vedere quel pacco che mi è arrivato ah no aspettate quel pacco cosa sto dicendo vedete sto ancora sbagliata perché quel pacco che vi ho fatto vedere ve l'ho già messo nell'altro video no vabbè dopo giorni che non registro più sono un po' scusa vabbè sapete no io sto riprendomi aspettate che mi fermo un attimo allora vi dicevo il pacco a cui mi riferivo era quel pacco dove è arrivato il profumo di si Giorgio Ormani alla fine dentro ci doveva essere il profumo invece è arrivata solo la custodia quindi pura notte quindi io dico questo il cavolo coordinato di fretta e furia potevo anche evitare alla fine però ho comprato solo la custodia cioè no vabbè io sono proprio una una testa vuota perché potevo evitare di comprare una cosa che non mi serve cosa me ne faccio della custodia si ragazze ve lo dico in questo video ho sbagliato a fare quell'acquisto volevo comprare un profumo invece ho preso la custodia mi scuso in questo video non è errore del sito di Look Fantastic ma è errore mio perché potevo evitare di incavolarmi male come una bestia quindi niente io ve l'ho detto a tutto cuore sincero questa è la mia opinione perché è la verità ho poi stato male e sbagliando ma vabbè sbagliando si impara come dice un vecchio proverbio basta io adesso vado ciao e cosa devo fare basta mi saluto perché non vedo cos'è ah si 18 minuti e 35 secondi si vabbè io ve lo lascio così senza tagli qualche cosa la taglierò ma non lo so vediamo c'è gente che sta parlando male ma io me la prego ciao ragazze un bacio e mettete like se vi è piaciuto questo video e perché no se vi piace questo canale un po' sbarazzino tra make up love eccetera io vi invito a iscrivervi e attivare la campanella e nulla basta commentate qua sotto e non capire ciao presto un bacio unicorn zombie apocalypse